Meghan Markle è stata accusata di aver messo in scena le foto dei paparazzi, mentre era a Montecito, in California. Meghan Markle, ha trascorso un Natale infernale dopo essere stata accusata di aver messo in scena le foto dei paparazzi, mentre faceva shopping in California. I fotografi hanno catturato la duchessa del Sussex, mentre era in giro per Montecito nel novembre 2021. Ma molti credono che le foto potrebbero essere state inscenate. Un utente di X, ex Twitter, chiocciola lord trattino basso belacquan ha detto, Meghan, è stata così colpita da un articolo che diceva che sarebbe rimasta a casa a causa della reazione di Ellen, che ha organizzato una ripresa paparazzata, mentre faceva acquisti, e cercava di sembrare impegnata con due telefoni spenti. Un altro, chiocciola Reese Gracehood, ha affermato, ha chiamato i paps. Santa Barbara è una piccola comunità. I paparazzi non stanno solo in giro ad aspettare che lei esca. Ma altri si sono affrettati a difenderla, con un utente, chiocciola Snise Cocoa, che ha detto, Meghan è assolutamente stupenda. Ed essere beppati di tanto in tanto è normale. Sono le azioni illegali e invadenti dei media e dei paparazzi che mi preoccupano. Ciò è avvenuto dopo che il commentatore reale Neil Sean ha affermato che Meghan, era così turbata dal contraccolpo seguito alla sua apparizione al talent show che ha portato a stare in casa. Molti hanno definito uno scherzo l'intervista con Ellen DeGeneres con la duchessa di Sussex, che balla e canta davanti ad alcuni venditori ambulanti di Los Angeles. Un critico ha commentato. Il fatto che Meghan si sia presentata a Ellen dimostra ulteriormente che non ha mai capito la differenza tra un membro della famiglia reale e una celebrità. Che caduta epica dall'alto.